Gli imprenditori e i lavoratori italiani non si aspettano dal governo show o passerelle, ma fatti concreti. Queste sono le scadenze fiscali da qui a dicembre. La proposta della Lega è chiara. Pace fiscale e blocco dei versamenti per tutto il 2020. Altrimenti a settembre, come scritto nero su bianco nei decreti del governo, gli imprenditori e i lavoratori dovranno pagare tutto quello che non sono riusciti a pagare nei primi mesi dell'anno. Follia. Non servono stati generali, non servono conferenze mondiali, serve andare in Parlamento a mantenere la parola data agli italiani. Cassa integrazione, soldi veri e l'impresa in banca e stop a tutti i versamenti, almeno per il 2020.